Con le guerre sociali tra il 91 e l'88 a.C., l'estensione della cittadinanza romana a tutte le popolazioni italiche a sud del Po comportò l'adozione di formule onomastiche conformi alla cultura dominante. Le iscrizioni bilingui latino-etrusche presentano la convivenza di una formula onomastica in etrusco e una in latino. Per chi scriveva, questa duplice espressione rappresentava l'esigenza di distinguere nettamente i due sistemi, che vennero comunque usati in parallelo fino a epoca tarda, almeno fino ai primi decenni del I secolo d.C. Infatti, la formula etrusca e quella latina erano diverse e questo dipendeva primariamente dalla posizione che avevano le iscrizioni funerarie, esposta ai passanti nel mondo romano, chiusa nelle sepolture in quello etrusco. Quindi, mentre le prime avevano una connotazione pubblica, le seconde erano destinate a una cerchia familiare e potevano essere più libere nel formulario. In generale, il patrimonio onomastico latino non era molto distante da quello etrusco, avendo in comune molte radici. La latinizzazione del gentilizio, formulata in ottemperanza all'acquisizione della cittadinanza, avveniva adattando il nome etrusco ai suoni diversi della lingua latina. Solo di rado, quando la vocalizzazione avrebbe portato a nomi insoliti, si adottarono gentilizzi anche molto diversi dagli originari etruschi. Invece, il numero ridotto e standardizzato di prenomi nel mondo romano comportava una scelta vincolata e ben diversa dall'originario prenome etrusco, appartenente a una casistica generalmente più variabile, soprattutto da città a città.